L'emergenza coronavirus ha colpito tutti i settori economici del Veneto, ma una spallata violentissima è stata data in particolar modo alle micro e piccole imprese del commercio al dettaglio della somministrazione e dei servizi alla persona. Proprio per questi comparti la regione ha stanziato un maxifondo da 20 milioni di euro. A differenza del governo che tarda a dare risposte alle nostre imprese, noi come regione abbiamo stanziato 20 milioni di euro a fondo perduto per le attività commerciali che si occupano di somministrazione ma anche di cura della persona. Ecco come accedere a questo fondo. Le domande potranno essere fatte via online dal 2 al 14 di luglio, sono contributi di 2000 euro per aziende fino a un massimo di 9 dipendenti più 250 euro per ogni dipendente che sia all'interno dell'azienda. Quindi una risposta concreta ed importante, sono di soldi che non sono finalizzati agli investimenti ma sono un aiuto in questo momento di difficoltà alle tante aziende che purtroppo hanno dovuto chiudere a causa del covid. Grazie. Grazie.